Primo Consiglio Comunale dopo l'estate, si riprendono i lavori con le linee programmatiche. Quali sono le principali che ha esposto all'interno Consiglio Comunale? Sì, in primo luogo diciamo che si tratta della traduzione del programma elettorale che è stato premiato dagli elettori, che ci dà una responsabilità enorme innanzitutto per affrontare quelle che sono le grandi emergenze, che sono ovviamente il primo punto delle linee programmatiche che siamo chiamati a dover affrontare. In primo luogo la questione della ricostruzione, ovviamente cercando di acquisire la consapevolezza del nostro ruolo di capologo di provincia all'interno del cratere sismico e spingere gli enti e gli organi istituzionali che sono preposti allo svolgimento della ricostruzione a cambiare passo, ovviamente facendo anche del nostro. La questione enorme del rientro, dell'anticipazione di casse e più in generale della sistemazione delle casse comunali e di un bilancio che è in grande sofferenza. Abbiamo poi la questione del patrimonio scolastico che va completamente riconsiderato ovviamente nella logica del principio della sicurezza, sicurezza sismica ma non solo, e dell'equilibrata ricostruzione sul territorio anche perché le scuole hanno, come è noto, ovviamente alla valenza didattica, anche un impatto urbanistico, economico e sociale importante per la nostra città. La grande questione della terra ma ambiente che va affrontata perché in un momento cruciale al bivio del suo futuro nell'ambito della riorganizzazione provinciale della gestione dei rifiuti. È chiaro che ci è stato detto anche oggi che si tratta di un libro dei sogni. Io ho anticipato dicendo che tutti i programmi elettorali e di governi contengono in sé una quota di sogno. La politica o l'azione politica ministeriale non può non avere una quota di sogno e soprattutto non può non averla nella nostra città che deve affrontare le grandi emergenze con il rischio che purtroppo siamo costretti troppo spesso a rincorrerle, ma non deve rinunciare a sognare, non deve rinunciare a riscattarsi e rilanciare il proprio ruolo attraverso le straordinarie potenzialità che ha, in primis il valore dell'università ma non solo, il dialogo con l'istituto zooprofilattico e altri enti di ricerca, penso all'osservatorio astronomico, il Braga, lo straordinario potenziale culturale, la vocazione culturale della nostra città che è fondamentale, su cui dobbiamo e vogliamo puntare attraverso le strutture, in primis il recupero del teatro romano, attraverso la valorizzazione dei musei, perché con la cultura ovviamente non è vero che non si mangia, così come abbiamo sempre detto, ma è un volano fondamentale perché possa esserci poi anche una crescita economica di una città che è in difficoltà e in crisi, una crescita soprattutto per il commercio cittadino, che non è solo il commercio del centro storico ma di tutto il territorio, che dovrà essere ovviamente al centro della nostra azione amministrativa. E poi ci sono delle ferite urbanistiche e non solo lasciate dalle precedenti esperienze amministrative, che costituiscono veramente una questione da affrontare con grande urgenza, emergenza, lo stiamo già facendo, ma le situazioni sono particolarmente delicate, penso in particolare alla ferita di Corso San Giorgio, penso alla soluzione risolta di Piazza Dante, penso all'housing sociale, che ovviamente è stato portato al fallimento, ma è un progetto nato male, che di sociale ha ben poco e che noi vogliamo assolutamente superare destinando quella quota importante al patrimonio pubblico di edilizia residenziale pubblica, quindi soprattutto per i nostri soggetti più deboli in una situazione di emergenza abitativa che la nostra città vive e ovviamente tante altre questioni, penso Carlo Febbo di San Nicolò, irrisolte ferite aperte che dobbiamo assolutamente chiudere per restituire speranza alla nostra città.